Ultimissime indiscrezioni da parte di Romina Power, lo sarà ancora per poco poi, tutti i dettagli nel post che non puoi assolutamente perderti. La voce della bellissima Romina Power potrebbe essere riconosciuta tra mille. La nota cantante italo-americana nel corso della sua lunga carriera ha fatto breccia nei milioni di fan che la seguono. Non scherzo quando dico che sono milioni. Amatissima davvero in tutto il mondo insieme a colui che è stato il suo compagno di vita e professionale per tantissimi anni, stiamo ovviamente parlando di Albano Carrisi altra voce straordinaria e orgoglio italiano. La vita della Power, per a quadrato, non stata per niente facile. Il suo un percorso a tratti molto doloroso e segnato da tanti momenti difficili, a cominciare dalla prematura scomparsa del padre che la usa. Il suo profilo Instagram, infatti, pieno di scatti che riguardano i figli che ama follemente. Molto impegnata nel sociale e lotta attivamente per le sue battaglie in cui crede molto. Un'animalista convinta ed una donna molto spirituale. Si è avvicinata, infatti, a diverse culture orientali. Tutto questo lo sappiamo proprio grazie a Romina che ama condividere con i suoi fan immagini della sua quotidianita e del suo privato. La cantante non si nasconde mai e non perde occasione per dire la sua opinione. Trattino maggiore Trattino maggiore Infatti, proprio grazie al suo ultimo post che siamo venuti a conoscenza che la bellissima cantante sta trascorrendo qualche giorno di relax in un meraviglioso chalet di montagna insieme agli amici e tanti amici pelosi, immancabili nella sua vita.